Buongiorno amici di Academy, l'ospite di oggi si chiama Mauro Berruto, è un giornalista, docente della scuola Olden di Torino di cui è stato anche amministratore delegato, ex CT della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile e direttore tecnico delle squadre olimpiche di tiro con l'arco. Sicuramente ci darà utili spunti per dire il futuro. Lasciamo quindi la parola ad Alessandro Mari e arrivederci al prossimo talk. Bentrovate, bentrovati, è il dodicesimo appuntamento di H, qui dove proviamo a dire il futuro. Proviamo a dirlo da un bel po' di mesi ed è stata un'avventura cominciata perché si sentiva l'esigenza di provare a non far schiacciare il nostro sguardo solo sul presente in un momento molto complicato che era quello della pandemia, in cui la pandemia cominciava. È vero anche che però nel farsi dei mesi qualcosa è cambiato, soprattutto negli ultimi mesi, nostro malgrado e perciò sono molto contento oggi di poter ragionare su che cosa ci serve non solo per guardare il futuro ma per guardare anche al presente con Mauro Berruto. Grazie Mauro per essere con noi. Grazie a te, grazie a voi e buongiorno a tutti. Mauro sei una testa multiforme mi verrebbe da dire. Lo prendo come un complimento. filosofo, antropologo, sportivo e soprattutto osservatore molto attento, diciamo così, del presente. E la prima domanda che mi verrebbe da farti per provare a prendere la mira proprio, Mauro, è c'è una qualche intelligenza, una forma di intelligenza che ci può essere più o meno utile per guardare il pandemonio, diciamo, che ci si sta muovendo attorno in questo momento? Ma guarda, se dovessi scegliere un aggettivo sceglierei trasversale in questo momento. Io credo che, diciamo, la rivoluzione digitale aveva iniziato questo processo, quindi torniamo indietro di una ventina d'anni così, a spanne. La pandemia ha definitivamente accelerato questa necessità muovendo un mondo che è cresciuto, quello dove io sono cresciuto per esempio, quindi diciamo il mondo in cui ci formavamo con il modello novecentesco, dove occorrevano intelligenze molto tipicizzate, molto verticali, no? Agite nella loro verticalità. Tu ti preparavi e poi più o meno con la formazione che avevi assunto, diciamo, durante gli anni universitari o così via, gestivi la tua carriera professionale, i tuoi progetti e quant'altro. Oggi credo che quel mondo letteralmente non esista più, la pandemia lo ha polverizzato e quando dico intelligenze trasversali intendo ovviamente sottolineare che non è che non occorra più sviluppare competenze verticali. Quel senso di profondità, diciamo. Diciamo che la specializzazione comunque è ancora un valore e lo sarà e lo rimarrà e tuttavia le specializzazioni, le verticalizzazioni, se non sono in grado di sapersi relazionare in una maniera trasversale, chiamiamola orizzontale, verrebbe da dire superficiale se non fosse un aggettivo che è connotato. Una volta noi dicevano se sei profondo era un complimento, se sei superficiale era quasi un insulto. Invece, di fatti si dice navigare sul web, surfare sul web, muoversi per linee orizzontali. E quindi la capacità di connettere quelle specializzazioni, quelle verticalizzazioni, chiamiamoli così, credo proprio sia il nuovo ecosistema. E questo, se posso, vale sia a livello individuale. Quindi se io una volta costruivo una competenza verticale, oggi probabilmente devo costruirne più di una, ma soprattutto avere, non con quel livello di profondità, di dettaglio, ma devo avere delle conoscenze di cui so qualche cosa che mi permettono di legare le mie competenze verticali. E la stessa cosa, te lo dico in questo caso da allenatore, se vuoi, immaginate al plurale. Esatto. Nella costruzione, quelli che per me erano gli staff, ma in generale delle squadre, delle organizzazioni dove le competenze verticali da sole non risolvono più nessun problema. Però c'è uno in grado di metterle a sistema, diciamo. E' in grado di mettere al sistema, è in grado, ripeto, di fare proprio dei legami, dei ponti, no? Fra queste competenze. Immagina, diciamo, siamo passati da un modello molto a I, a forma di I, una competenza verticale, a un modello a forma di pettine, no? Dove ogni dente è una competenza, ma senza quella connessione orizzontale i problemi non si risolvono più. E credo che questo sia stato molto evidente durante la pandemia. Moltissimo. Ovviamente ha cambiato un mondo di riferimento, dobbiamo essere bravi anche a uscire dal giudizio, nel senso non stare a ragionare se era meglio, se era peggio, se si stava meglio, se si stava peggio. E' accaduto. E' accaduto, è un fatto. E come fatto questa cosa credo che davvero strutturi il nostro nuovo modo anche di formare conoscenze con un meraviglioso effetto collaterale, se posso, che la pandemia ha lasciato e che quindi vale già per il presente e non solo per il futuro, che è una necessità di, chiamiamola, formazione continua. Ok. A livello di dettaglio poi, insomma, non possiamo diventare esperti di tutto, chiaramente, ma essere capaci di usare degli strumenti che apparentemente non pensavamo che ci sarebbero mai serviti per mettere a frutto le nostre conoscenze, con quel legame. Se tu avessi un amico taxista che sa fare benissimo quel mestiere lì, poi per divertimento smanetta sugli smartphone e programma le app, sa fare due cose bene. Se unisce quelle competenze e inventa Uber, ecco, in quel momento è nata non solo innovazione e non solo risposta a un bisogno, è qualcosa di più, è la generazione di un bisogno. Sì, è vero. Cioè tu hai creato qualcosa che genera una necessità e questa cosa passa attraverso questa connessione. Questa forma di intelligenza, diciamo, connettiva. Esatto. Ok. Che vale al singolare, dicevo, e vale soprattutto, no, soprattutto, vale allo stesso modo nella costruzione, chiamiamoli, dei team, delle squadre, degli staff. O di un sistema paese, paradossalmente. Da maggior ragione. Tu pensa, se posso fare un esempio, ma sono passati due anni, io non credo, diciamo, che noi avremmo preferito avere un virologo primo ministro, perché certamente un virologo potrebbe affrontare un tema come quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, con un approccio verticale, tu dici, lockdown per un anno e mezzo, il virus scompare. Chiaramente si indiesca il resto del paese. Quindi ecco, i tavoli che agiscono queste decisioni manifestano proprio la necessità di essere trasversali per competenze. Posso fare un esempio meno drammatico e più legato al mio mondo. Pensa a qualche tempo fa, quando è nato e naufragato in 48 ore, diciamo, l'esperimento della Super League di calcio. Sì. Otto grandi club che tutti siamo certi avessero messo in moto competenze ultra professionali, non so, dal punto di vista finanziario, economico, immaginato un modello ovviamente capace di esprimere. E quel modello è naufragato in 48 ore perché probabilmente a quei tavoli non era seduto, non so, un sociologo o un antropologo. E cos'è successo? Che l'impatto, non quello finanziario, ma quello... Del percepito comune. Esatto. Per esempio, mentre noi in Italia ci sfinivamo di riflessioni intellettuali, in Inghilterra, dove il calcio ha un impatto, diciamo, sulla comunità, molto sociale, molto significativo, molto sentito, è successo che i tifosi sono scesi in strada, hanno fermato i pullman delle squadre, hanno preso i dirigenti per il Bavero e hanno detto voi questa cosa non la fate. Allora, nessuno ha misurato quella parte. Perché è una competenza ovviamente che non è direttamente legata a quella, seguendo l'esempio che ho fatto, economico-finanziaria, ma che può mandare in frantumi un modello magari pensato nel dettaglio. Molto vero. E quindi, ecco, imparare a comporre questi tavoli sarà certamente una necessità e una ricchezza perché ovviamente... Tu per storia, diciamo, sei stato anche, virgolette, costretto a farlo un po' prima, no? Cioè, nel senso, dal direttore tecnico del tiro con l'arco, per esempio, in cui appunto non avevi mai scoccato una freccia di tutta tua, però l'esercizio di quell'intelligenza era per te indispensabile. Ma guarda, io metto insieme le due grandi esperienze, quella, vabbè, pallavolistica molto più lunga, soprattutto quella di commissario tecnico, no? Io fra Italia e Finlandia nella pallavolo ho allenato per undici anni in squadre nazionali, quindi ho allenato più squadre nazionali che club. Che quelle di club. E poi ho avuto questa, quest'altra escursione in un mondo affascinante, ma ovviamente a me è ignoto. E quando, soprattutto quando sei commissario tecnico, quindi hai a che fare intanto con eccellenza assoluta, atleti, diciamo, di profilo olimpico, in entrambe le occasioni mi è capitata questa cosa. E proprio la composizione di quella squadra che è un po' sommersa, no? Che lavora dietro per mettere gli atleti nella loro condizione migliore, passa necessariamente attraverso questa capacità che descrivevo. Perché io, è chiaro, quando componevo i miei staff desideravo avere i migliori specialisti al mondo. Il miglior fisioterapista, il miglior medico, il miglior preparatore fisico, il miglior team manager. Però, se avessi scelto i miei sestetti sulla base solo dell'opinione del fisioterapista, pur essendo estremamente competente, probabilmente avrei perso anche più partite, ma soprattutto non avrei fatto il mio mestiere. Perché il mio mestiere è quello di generare una sorta di intelligenza collettiva, che si nutre delle competenze individuali, ma che rende con evidenza, restituisce con evidenza l'idea che la decisione finale è frutto della somma dei punti di vista. È una specie di mediazione costante, se posso paralizzare. Sì, è davvero, come dire, un organismo intangibile, superiore alla specificità e anche ovviamente alla competenza individuale, che fa questo esercizio molto dinamico, molto elastico, non so come definirlo. Perché anche, questa che è un'altra cosa che mi colpisce lì, quella forma di intelligenza non è mai ferma. È assolutamente vero. Cioè, insomma, se uno scendeva in verticale in una conoscenza, l'idea è che non è che si muovesse tanto dal perimetro, no? Cioè, era dentro quella stanza, diciamo. Mentre questa forma di intelligenza che tu descrivi mi dà sempre l'idea che possa essere messa in discussione il minuto dopo, debba quasi ricostituirsi volta a volta. Mi viene in mente un'immagine molto romantica, quella degli stormi, no? Beh, è vero. Che sono migliaia di individui, tu non riesci a capire chi è che dia il comando per diventare prima una palla, poi un cone, poi una sfera, poi una freccia, e non riesci naturalmente neanche a intuire come vengano trasmessi quei comandi. Però succede, e succede, c'è una bellissima pagina di Primo Levi che descrive questo movimento, succede non solo per gli individui esperti che hanno già, diciamo, volato negli stormi hanno memoria del volo, in migrazioni precedenti, ma succede anche per gli individui al loro primo volo, no? Allora è probabilmente una forma di intelligenza, che mette insieme intuito, mette insieme capacità di leggere dei dettagli e così via, ma che davvero riesce a trasformare quell'approccio individuale in un gesto collettivo. Ed è verissimo quello che dici, non è, ovviamente non è una forma statica, esattamente come gli stormi, è una forma dinamica che può prendere strade, forme diverse, proprio un animale che si muove... che mi verrebbe da dire impara da se stesso, no? Più agisce, più impara. Cambiando. E così se posso, ti dico un'altra cosa che ripeto ossessivamente, smantella definitivamente una parola che ci ha sfinito in questi ultimi due anni, che è la parola resilienza. La parola resilienza che, arrivo dal mondo dello sport, non voglio dire che non sia una virtù, per l'amor di Dio, però è qualche cosa che ti costringe a capabilmente, testavamente superare un problema, rimanendo sempre te stesso, no? Cioè conservando sempre la tua forma. E invece credo che, insomma, questi ultimi due anni delle nostre vite ci abbiano proprio insegnato che se noi non impariamo a cambiare da quello che ci capita, perché poi anche lì un'altra riflessione è sulle cose che noi in qualche maniera ci andiamo a cercare, no? E a cui ci esponiamo. Ci sono persone di noi più, diciamo, disponibili ad avviare percorsi di cambiamento, altri un po' più resistenti e così via. Ma poi ci sono le cose che ci capitano. E quella è un'altra partita. Sì, e vedere come non tanto resisti o ti adatti, ma proprio sei versatile, no? La navigazione è una scelta, no? Tu vai da un punto A a un punto B, ti metti su una barca, sai che potrà capitare mare mosso e starai male, eccetera, eccetera. Ci saranno invece momenti di mare piatto e albe meravigliose, ma quella è una scelta. Il naufragio è una cosa che ti capita. E quindi la capacità di reagire in modo proattivo si misura soprattutto in quelle situazioni, in quel momento in cui tu sei, diciamo, di fronte a qualche cosa che non ti sei scelto e al quale devi reagire. Si può reagire ovviamente in maniera resiliente, abbiamo anche un piano nazionale di ripresa e resilienza, che significa superare quel problema ma tornare come riprime, un po' come l'araba fenice, no? Risorge dai propri ceneri ma è sempre uguale a come me. È sempre lei. Oppure puoi scegliere di trasmutare, diventare qualcosa di diverso. Io credo che al termine di questo periodo lungo che ci ha accompagnato e che ci sta ancora parzialmente accompagnando, se noi torneremmo a ciò che eravamo prima avremo due problemi. Il primo è tutta la devastazione che la pandemia ha generato, il secondo è di non aver imparato niente. No, e poi non rendersi conto, perché quello che hai detto mi fa venire in mente una cosa molto pratica, cioè ci sono già persone che si sono rese conto di non voler tornare indietro. Cioè se tu vai a leggere in questo momento quanti trentenni, quarantenni hanno lasciato il lavoro che avevano e cercano una strada, mi verrebbe da dire che non solo hanno spalancato in maniera brutale le possibilità che si danno nella testa, bene o male non lo sappiamo ancora, però se tu prima della pandemia chiedevi a uno di 40 anni e ti licenzeresti mai, lui ti guardava e diceva, ma sei impazzito, ho il muro, le cose, no. E l'altra però mi viene da chiederti anche a che fare con le forme di felicità che cerchiamo, perché un'altra delle cose che forse questo periodo ci sta insegnando è che avevamo escluso alcune forme di felicità, cioè il fatto che ad esempio oggi uno di noi rifiuti di performare in un modello per perseguire un'altra idea era irricevibile due anni fa, due anni e mezzo fa. Ed è curiosa questa roba, per me è molto molto strana. Guarda, è un'apertura a un tema, se vuoi, di libertà, riconquistata, per paradosso proprio in un momento in cui la libertà... Di naufragio, diciamo. Sì, esatto, diciamo c'è stata molta discussione, no, anche sulle necessarie, diciamo, richieste a cui siamo stati sottoposti, per esempio appunto la distanza fisica imposta, certamente ti fa riscoprire poi l'importanza della vicinanza, dell'empatia, della relazione, diciamo, intima, no, da quel punto di vista. Quindi un po' banalmente come sempre succede quando tu sei privato di una cosa, poi ne scopri l'importanza. Quindi io credo che questo aspetto che tu citavi sia vero e pervada anche proprio il mondo delle professioni, no? Penso di poter dire che oggi noi siamo di fronte comunque a un tasso di fidelizzazione al luogo del lavoro ovviamente molto inferiore perché tendenzialmente, insomma, i ragazzi, diciamo la generazione X, così per dare un parametro temporale, non immagino neanche di poter fare una cosa sola per il resto della loro vita, che è un modello, ripeto, che non è che abbiamo solo percepito dai nostri nonni, cioè io sono cresciuto in quel mondo lì. E questa, ripeto, è una buona notizia perché comunque apre a quella necessaria curiosità, a quella capacità proprio elasticamente intellettuale di leggere il contesto e di cercare soluzioni che probabilmente ti danno una dimensione di libertà aumentata. Esatto, perché magari prima uno cercava la sua realizzazione personale solo in una singola cosa e invece adesso quella singola cosa non può più essere la sola. Mi verrebbe, visto che parliamo ovviamente a degli interlocutori che hanno dei compiti ben precisi, mi verrebbe da leggerla anche al contrario, no? Dal punto di vista dell'organizzazione, che però giustamente può dire, porca miseria, io ho dei talenti, li formo, li preparo e poi questi magari dopo pochi anni... E io credo che questa sia un'altra grande sfida da parte delle organizzazioni. La prima è di diventare, diciamo, attrattori di talenti, proprio come quelle squadre dove tutti desiderano di andare a giocare, no? Perché sanno che lì succede qualcosa che valorizza sia il singolo che ovviamente, insomma, essendo un maceratore di talenti, produce un valore percepito maggiore alla squadra. Quindi da una parte lavorare su questa attrazione, dall'altra importantissimo lavorare poi sull'onboarding, nel senso che attrarre i talenti è importante ma poi, diciamo, il momento in cui si scarica a terra e il talento incomincia a lavorare nella tua organizzazione, talento di qualunque tipo, eh, ovviamente. Parliamo di performer. Sì. I performer possono essere sportivi, artistici, cantanti... Tecnici. Tecnici, imprenditori o persone che lavorano nell'organizzazione. Quindi la seconda fase è quella di lavorare bene sul momento in cui non solo tu hai attratto un talento ma lo metti nelle condizioni di scrivere. Nelle tue organizzazioni. La terza è quella di lavorare da subito, chiamiamola sua legacy, non so come dire, cioè sul fatto di poter avvalersi della competenza di un grande talento, sapendo che non giocherà per te per tutta la vita. Che però è come se caricasse la tua calamita mentre gioca per te, no? Esatto. Aumenta il grado attrattivo. Nel mondo dello sport, in questo caso ovviamente, soprattutto nel mondo dei club, è abbastanza normale. Cioè tu lavori come un matto per riuscire a far venire la tua squadra, un super giocatore che ti porta valore tecnico, valore percepito, valore d'immagine, ma difficilmente ormai lo sappiamo, no? Cioè i vari eroi alla Zanetti o alla Totti o alla Gempiero, che giocano per venti anni nella stessa squadra difficilmente. Sono animali rari. Esatto. E quindi bisogna solo esserne consapevoli e lavorare in maniera... E usare quel tipo di cifra del presente, diciamo, a tuo valore. di lettura del contesto di oggi, che non cambieremo ovviamente, ma neanche giustamente. Nel senso, lo cambieremo inevitabilmente e giustamente perché è il modo di interpretare la realtà, che ribadisco è un processo iniziato già da tempo e che questa pandemia ha definitivamente accelerato. Ringraziamo Mauro Berruto e ci vediamo alla prossima con H.